Noi per una ventina d'anni abbiamo sceneggiato i contratti degli attori. Cioè a dire, un produttore faceva il contratto ad un attore, a due attori, anche a tre attori. E poi chiamava noi. Chiamava noi a scrivere su quegli attori. Se io fossi un produttore e mi fidassi degli sceneggiatori, perché non tutti sono abitabili, io farei stare gli sceneggiatori su sette. Escritturerei i falsi su sette. Questo è avvenuto poche volte nella mia carriera. Però lo sceneggiatore è importantissimo e di grande aiuto al regista. Non a fare l'aiuto al regista, ma a dire, aspetta un momento, fatela fare più calmo. Mi succede ancora di avere dei rammarichi. Quando vado in proiezione, alla fine di dire, ma porca miseria, ma questo è peggio. Andavo a restare un'altra cosa. Per esempio con perdone. Abbiamo sempre detto che un comico non trombarsi. non può avere rapporti con una donna. A meno che non siano rapporti di perdente. E li ricostruiamo così. Lui non ci sta sempre. e quindi nelle volte va a fare costruire da altri e sbaglia. Allora. Allora.